buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo è lui o non è lui certo che è lui ah mamma mia che schiso stamattina buongiorno un piccolo pampurio com'è un pennellino di prima mattina di coglioni ma buongiorno non sto cazzo buongiorno ma perché fa un pennellino ma non ha già l'amato a a a merave come la canzone te la ricordi eh che te ricordi niente eh non mi ricordo di cardinari sceglietto che non ha già la a a si rischia stamattina bravo lima la gratta e vinci così come ti ho insegnato io bravo vai così se limano le unghie vai capito no ma gratta e vinci oh hai capito oh hai capito guattane è verde dai che è verde beppe devo aspettare mi sono addormentato ma come si è addormentato ma no no non si può addormentare il ciclista comodo coi jeans eh è uno c'è comodo ora che sottopalla ora che lavoro di questo te rinfresco no te rinfresco io sono cantante sì sì no 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 vai vai mamma mia che campione in quasi 93 anni ragazzi ha assunto una potenza clamorosa che sei Federico? tu sei uno stronzo con una S grossa come quella sono stronzo grosso in quel modo? si con la S grossa in quel modo? si sono super stronzo e beh con la S grossa proprio di un po' tu che vai girando la mattina eh? dimmelo io vivo girando, vado mi fare io no, no che vero mi fare tu non pari a n***o se pari io vado mi fare capito? sono stato un palestra ah no è stato un palestra eeeh ma te perché? eeeh picchiatore eeeh eeeh ma il cincillà no è nato un palestra rafforza i muscoli della lingua ma il cincillà che i muscoli del cincillà hanno morti guarda un po' tu ma mi senti i muscoli del cincillà ma fermi la c***o ma se vai guarda come va bene ma te stava a farmi una cosa ma tu era giù a fan c***o 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 perché si eccole 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 una sempre contenta guarda eh l'emblema della felicità e due eccola oh che bella lei è contenta veramente è vero è vero o no? è vero è vero è sempre vero grande matti eeeh qui abbiamo qui abbiamo l'adriatico prima era pasta al limone l'uomo di sedano mela e sedano guarda un po' che t'ho messo chi è capitano? chi? coglione capitano Tsubasa eh chi? chi è capitano? e che ne so io? Tsubasa nooo nooo chi ha segnato? e che ne so Tsubaka chi? Tsubaka Tsubaka chi? papà papà tuoi tuoi capitano Tsubasa i musicali chi è questi? i musicali ma non ti piacciono? ma cadina ma bello ste sciapati ste sciapati troppo belli si la domanda ci dica oggi come si è comportato? male? io ti dico guarda mi ha menato come al solito come al solito come al solito botte da orbi sembra buddino ecco buddino ma lui chi è? lui è e sarà e resterà e comunque sarà per sempre bello di Roma come Puglia come vestito da brasiliano vorrebbe fare un passo di samba per tutti gli amici brasiliani vai vai fai un po' vai vai ta ta vai vai ta ta dai ta 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 la 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 bello di Rio de Janeiro ta ta guardate Massimo Boldi me guarda Luca adesso vabbè brasil è lungo un metro e pesa anche la 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 brasil guarda come picchia l'unico teatro all'aperto gratis e improvviso nonostante mi sono vestito da spider mi sono arrivato col motorino vestito da spider quello è quello che è ma c'hanno paura i bambini ma se puoi inizia a mangiare no no aspettiamo aspettiamo prima di rimanere si può mangiare che belli auguri